La scuola mobile dell'Aquila ha denunciato in stato di libertà un cinquantenne, una ragazza ventenne, entrambi aquilani, per ricetazione e appropriazione indebita, per aver trafugato dall'abitazione di proprietà della famiglia della giovane oggetti e suppellettili di vario genere, alcuni dei quali sono stati poi rinvenuti in uno dei mercatini dell'usato cittadini. Tutto a inizio dalla denuncia di una donna aquilana, che recatesi per un controllo periodico presso l'abitazione di famiglia, ubicata nel centro storico e disabitata dopo il terremoto dell'aprile del 2009, ha notato la mancanza di vari oggetti di pregio nelle aree comuni del fabbricato. Stesso riscontro è stato fatto da un altro familiare, che recatosi a sua volta dopo essere stato informato presso la propria unità abitativa, ha notato la mancanza di suppellettili vari anche all'interno del suo appartamento. Il sopralluogo effettuato dalla mobile ha evidenziato immediatamente la totale mancanza di segni di effrazione su porte e finestre dell'edificio e senza indugio sono iniziati controlli presso i vari esercizi commerciali di vendita dell'usato della città, dove in un paio di questi sono stati rinvenuti la maggior parte degli oggetti, dei mobili e degli arredi asportati. Dalla visione della documentazione di consegna in possesso dei rivenditori è emerso che tutto il materiale era stato consegnato in conto vendita ed in periodi diversi da un uomo aquilano, di seguito accertato essere un amico della figlia di uno dei proprietari dell'immobile, che da molto tempo non vive più in famiglia e non ha alcun tipo di rapporto con nessun componente di essa. A conclusione delle indagini sono stati denunciati entrambi all'autorità giudiziaria per appropriazione in debita, la ragazza e per ricettazione l'uomo.